Buongiorno Il vestitino, già me lo sono preso nella variante verde, me lo sono preso anche in grigio perché è morbidissimo, lanetta, manica lunga, ottima la vestibilità e poi messo con una cintina riesco anche a sblusarlo e a farlo leggermente più cortino. Lo spolverino, ragazze, oggi è veramente il top, mi piace da impazzire, mi piacciono i colori ma soprattutto mi piace il tessuto che è morbidissimo, soffice, soffice e caldo caldo e poi mi piace tanto anche la manica a palloncino, mi dà molto il senso di ampio, di morbido, di soffice. Sotto come al solito, stavo dicendo, ci ho abbinato i leggings, ormai porto soltanto quelli felpati ma ragazze, il top come al solito e lo stivale, quello col tacco largo comodissimo che sta in promo a 29,99 euro, quindi in questo mio outfit bello caldo, soffice ma soprattutto molto comfort, ragazze sono pronte per fare lo scarico che avverrà oggi, quindi mi raccomando nel pomeriggio occhi aperti anche sulle stories per vedere che cosa c'è rientrato di nuovo disponibile perché tanti articoli mi tornano di nuovo disponibile ma tanti me ne arriveranno nuovi oggi e quindi sono veramente contenta. Ho mandato in ordine un sacco di cosettine che vi interessano e vi dico pure un'altra cosa ragazze, questa un po' così a casaccio ve lo dico, prima stavo mandando un video per far vedere a una ragazza che fa lo shopping online come stanno indossati questi pantaloni. Ragazze me ne sono innamorata, mi sono provata, sono morbidissimi, caldi caldi e la vestibilità è eccezionale, poi con le lassi con vita voi lo sapete io li amo e poi ieri invece mi ci sono, mi sono provata per far vedere a un'altra ragazza come stava il blazer, ragazze io mi sa che me lo prendo tutto il completo perché è il top. Comunque banda le ciance, qui abbiamo delle clienti che stanno aspettando per entrare, salutano salutano, allora io a questo punto vi lascio, ci vediamo più tardi, mi raccomando il punto vendita è aperto sia adesso fino alle 13.30 che nel pomeriggio dalle 16 in poi, occhi aperti dalle 16 in poi per vedere lo scarico con tutti quanti noi arrivi sempre qui sulle stories e sulla pagina alle foto postate. Ci vediamo ragazze, buona giornata, ciao! Ragazze buon pomeriggio, martedì come vi ho promesso, abbiamo avuto uno scarico, siete pronte per vedere gli articoli nuovi? Ve li faccio vedere subito e vi faccio vedere anche che cosa c'è rientrato di di nuovo disponibile, ma cominciamo subito subito con gli articoli nuovi. Pantalone a zampa, bello largo, corto, questo arriva alla caviglia ragazze, tessuto velluto a costine piccole 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 disponibile nella colorazione nera e nella colorazione marrone bruciato. Secondo me questo sta benissimo, vita medio alta, anzi vita alta ragazze, tasca cino sa taglie da provare e da vedere, vi farò vedere poi. Io mi sono già innamorata ragazze, cappotto lungo di panno foderato all'interno, taglia unica, ottima la vestibilità secondo me di questo modello che proverò sicuramente. Adoro il colore latte ma c'è disponibile anche nella colorazione cammello nera e grigio. Grigio poi c'è arrivato, oltre al nero e al cammello come sempre, il modello un pochino più corto ragazze, questo ha la cintura ma a differenza del lungo ha anche un bottone sempre foderato, ottimo il prezzo, ottima la vestibilità, poi lo vedrete indossato sicuramente perché voi lo sapete io amo i cappotti. Altra news, maglia morbidissima di lanetta con il collo a giro, bella ampia, morbida, disponibile nella colorazione nera, nella colorazione bordeaux, nella colorazione camel, questo in realtà è un bordeaux ragazze, voi lo vedete un po' rossetto, morbida morbida, soffice soffice ma soprattutto caldissima, questa pure ci farà impazzire. Poi ragazze la bellezza, vestito lungo con il collo a vulcano, disponibile nella colorazione panna, anzi latte, disponibile nella colorazione grigia e disponibile nella colorazione nera. Questo modello rimane un pochino più morbido quindi non vi va a sagomare assolutamente e secondo me si può portare benissimo anche con una cintura e ha le maniche top del top perché sono lunghissime quindi è fantastico, belle, morbide e avvolgenti. Sì, quelle maniche che possiamo tirare su quasi fino alle dita che ci coprono bene bene, comunque lo amo. New entry ragazze, la bellezza, maglioncino corto con lavorazione a maglia disponibile, oddio mi sta a cascare un colore, fermi tutti, eccolo qua, disponibile ragazze scusate nella colorazione grigia, disponibile nella colorazione nera e nella colorazione latte. Guardate quanto è bello questo con la lavorazione, se riesco ad infilarlo, ha trecce, delizia, leggermente ampio con un cannolè sotto che rimane morbido morbido, il collo a vulcano che comunque ha costine quindi ha un'ottima vestibilità e non stringe nemmeno sul collo questo modello. Ha il cannolè anche sulla manica e rimane bella lunghetta, anche quella cosa molto importante perché pure per chi è un pochino più alta, se no rimane sempre con la manica mezza di fuori, con la mano, l'avambraccio mezzo scoperto. Altra news! Allora, questo modello qui ragazze lo adoriamo, lo lavoriamo tutti gli anni, tutti gli anni esce ovviamente nelle colorazioni moda, quest'anno ce l'abbiamo disponibile per il momento nella colorazione nera, nella colorazione grigia, nella colorazione cammello, il collo ampio e altissimo con una lavorazione a nido d'ave, veramente morbido ma giusto per dare l'effetto tipo sciarpona. E poi nella parte di sotto troviamo una maxi maglia molto ampia, potrebbe essere anche un mini abito, io lo abbino spesso con i leggings perché comunque copre tranquillamente le sciapette e ha questa lavorazione a effetto a quadrati, è delizioso ragazze, il tessuto è ottimo perché è bello caldo, perché è sofficissimo e perché ha tantissima viscosa e modal, quindi tanta fibra naturale, bello caldo caldo. Altra news, pantalone dritto, con risvoltino sotto che volendo si può anche tirare giù la lavorazione, guardate che bello effetto leggermente, questo pantalone va a taglie, ha la scintina, le tasche, ha un semi elasticizzato, vita medio alta, rimane sagomadino sulla gamba, pure questo secondo me. Ragazze, è da provare, è da provare, è da vedere perché è anche da amare questo. Mi sono arrivate le maglie, quelle con i bottoncini, questo giro tanto nello scarico ci è arrivato di morbido, comodo, bello ampio, soffice. La netta disponibile nella colorazione grigia, nella colorazione marrone bruciato, nella colorazione ottaneo, nella colorazione nera, nella colorazione panna, ragazze parliamo del modello che rimane, anche questo da mettere sopra i leggings, anche questo volendo da mettere con una cinta che è giro collo, manica lunga, se riesca ad attaccarlo vediamo, lo faccio vedere un pochino meglio, con le tasche e i bottoncini laterali. Delizia pure questo, so che sicuramente piacerà un sacco di clienti che me l'hanno già chiesto, un modellino un pochino più ampio. E cominciamo con i di nuovo disponibili, le maglie quelle. Allora, eccomi, nel frattempo è entrata gioente, comunque io continuo a farvi le stories perché ragazze mi sono ritornate di nuovo disponibili le maglie, quelle a fantasia e la netta, quelle che hanno il collo a vuoi leggermente, si vede l'effetto, sì, leggermente in alminatino, ragazze, pure queste le ho vendute benissimo, quindi le abbiamo riassortite, di nuovo disponibile il maglione, questo mi ci sono fatta la foto, quindi la trovate già postata, se non erro, sulla pagina, non mi ricordo se era una foto o una stories, comunque. Di nuovo disponibile il maglione a pipistrello, quello con lui il collo a barca, bello ampio, punzecchiato, disponibile di nuovo nella colorazione rosa, nella colorazione bianca e nera. Allora, questo ragazze mi è ritornato a grande richiesta, di nuovo disponibile il maglione, quello peloso, quello col collo a vu, questo l'avete sicuramente trovato postato, è bellissimo, morbido morbido, soffice soffice, di nuovo disponibile, quindi ce l'abbiamo di nuovo disponibile, bianco, marrone, verde e latte. Finalmente mi sono ritornate di nuovo disponibili le camicie di flanella, il modellino quello corto, nelle due colorazioni celeste, questa è una ragazza celeste, è venuta tre giorni di seguito a chiedermi se era rientrata, adesso ce l'ho disponibile ragazza, quindi passa, ti aspetto. E poi c'è arrivata anche la colorazione con il marroncino, questa mattina avevo finito e quindi ho rimandato subito in ordine e per fortuna mi sono ritornate di nuovo disponibili le paglie punzecchiate, quelle leggermente più corte davanti, leggermente più lunghette nella parte di dietro. E poi mi sono rientrati anche di nuovo disponibili i maglioncini, quelli col collo a funpo, ricorda pure l'effetto del spolverino che porto io oggi indosso, ma questo qui ho un maglioncino, anche questo va a coprire le sciapette, disponibile nelle due colorazioni, quindi con rosa e con il bianco e il nero, mi sono rientrati di nuovo disponibili le camicie, quelle modello oversize, nelle tre colorazioni. Allora, dicevamo, tre colorazioni bacchettata con il nero, la versione bianco e nero a quadrucce, la versione con le righe un pochino più grandi della camicia modello oversize da poter abbinare anche alla cintina, ragazze, questa potenza leggins, anche perché il seno è un pochino più grande, perché calza benissimo. Come mi sono ritornati di nuovo disponibili, ragazze, le stiamo stravendendo, il modello leggermente ampio non ha effetto privistrello, questo no, però è quello che ha il cannolè e nella parte del collo e nella parte di sotto. Veste benissimo, che l'ha preso, lo sa, e mi è ritornato a prendere anche gli altri colori. E poi, ragazze, quasi finito. Tributio di magliettine basiche che mi sono rientrate e nella versione piccolina, quindi le taglie un pochino più piccole, e nella versione taglie grandi, quindi un pochino più grandi, e per quanto riguarda il girocollo in maglina, e queste sono le maglie, vabbè, non mi ricordo dove ero rimasta, perché nel frattempo mi sono messa a chiacchierare con una ragazza, vi dico che comunque queste sono le maglie da 4,99€, quelle basiche, in maglina di viscosa, ci sono ritornate taglia piccola e la versione in girocollo in alcuni colori, e la versione a collo alto sempre misto assortimento di colori, di nuovo disponibile anche nella versione girocollo e collo alto, taglie un pochino più comode, quindi ragazze, ce n'è per tutti i gusti, per tutte le taglie. Allora, a questo punto io vi faccio vedere che domani mattina nelle stories vi farò vedere quello che ci è arrivato di nuovo, che sta ancora imbustato, perché io sto servendo, e quindi ci vediamo, occhi aperti, cercherò di fare le foto e di postarvele il prima possibile, ragazze, a presto, ciao! Grazie a tutti!